prima di tutto chiedo licenza di premettere che ora sono savio per questo anche povero anche calvo quando ero ancora io voglio dire il riverito signor fausto bandini ricco e in capo avevo tutti i miei bellissimi capelli è però provato provatissimo caro matto è un po più magro si intende ma pure con questi occhi che mi sono rimasti da allora spauriti nella faccia così tutta scritta dagli atteggiamenti che prendeva per le croniche pietà da cui ero afflitto per distrazione ogni tanto ci ricasco ma sono lampi che marta saggia moglie spegne subito in me con certe sue terribili paroline per esempio l'altra sera cose di poco momento badiamo che può accadere a un povero savio il savio povero ridotto a vivere più ordinatamente di una formica quanto più tenue la tela tanto più delicato il ricamo ho letto una volta non so dove ma prima di tutto bisognerebbe saper ricamare rincasavo non si può dare credo maggior fastidio di quello che l'insistenza ad un mendicante cagiona quando non sabbia il soldo in tasca e quelli ci veda all'aria dispostissimi a darglielo era nel mio caso una ragazza senza interruzione con voce piagnucolosa da un quarto d'ora mandava ripetendo dietro le stesse frasi due o tre io sordo senza guardarla a un certo punto mi lascia in veste e sappiccica come una mosca tavana a una coppia di sposi novelli che lo daranno un soldino dico tra me ma tu non sai ragazza la prima volta che gli sposi novelli van via a braccetto credono d'avere tutti gli occhi del mondo appuntati addosso sentono l'impaccio delle cose nuove che tutti quegli occhi veggono e suppongono in loro e non sanno ne possono fermarsi a farle lemosina al povero sento dopo poco infatti qualcuno che mi corre dietro gridando signorino signorino rieccola col piagnisteo monotono di prima non ne posso più le grido già sperato no peggio come se con quel no avessi dato la stura a un altro paio di frasette tenute in serbo in previsione del caso sbuffo una prima volta sbuffo una seconda finalmente uff alzo il bastone così quella si tira ad un canto levando istintivamente il braccio a riparo della testa e di sotto il gomito mi geme anche due centesimi dio che occhi apriva in quel volto smunto citrino sotto i capelli rossastri abbattuffolati tutti i vizi della strada vermicavano in quegli occhi e la precocità li rendeva spaventevoli non metto alcun punto esclamativo perché ora che sono savio nessuna cosa deve più farmi meraviglia già prima di vederle quegli occhi ero pentito dell'atto di minaccia quanti anni hai la ragazza mi guarda di traverso senza abbassare il braccio e non risponde perché non lavori magari a trovarne non trovo non cerchi le dico io riavviandomi perché hai preso gusto a codesto bel mestiere manco a dirlo con lei mi seguì ripigliando la friggente cantilena che aveva fame le desse qualcosa per amor di dio potevo cavarmi la giacca e dirle tieni chissà in altri tempi forse l'avrei fatto ma già in altri tempi avrei avuto in tasca il soldino mi nacque improvvisamente un'idea della quale sento il dovere di scusarmi al cospetto della gente savia lavorare senza dubbio un buon consiglio ma si fa così presto a darlo mi sonvenne che marta cercava una servetta e si badi qualifico pazzia quest'idea improvvisa non tanto per la trepida gioia che mi suscitò e che riconobbi in prima benissimo per averla altre volte provata tal quale quando ero matto specie d'ebbrezza barbagliante che dura un attimo un lampo nel quale il mondo sembra di a gran palpito e sussulti tutto dentro di noi quanto per le riflessioni da povero savio per cui cercai subito di puntellare quelle brezza in me pensai purché a sta ragazza si dia da mangiare da dormire e qualche veste smessa ci servirà senza pretendere altro sarà pure un risparmio per marta così senti disse la ragazza soldi non te ne do vuoi davvero lavorare si fermò a guardarmi un tratto con quegli occhi scontrosi sotto le ciglia odiosamente aggrottate poi chinò più volte il capo sì ebbene vieni allora con me ti darò io da lavorare a casa mia la ragazza si fermò di nuovo perplessa e mamma andrai a dirglielo dopo adesso vieni mi pareva di camminare per un altro viale e che mi vergogno a dirlo case e alberetti fossero in preda all'agitazione che provavo io e l'agitazione crebbe crebbe di punto in punto appressandomi a casa che avrebbe detto mia moglie in un modo più balordo non avrei potuto presentarle la proposta malbettavo e certo certissimo questo modo balordo dovete contribuire non solo a fargliela respingere come era giusto ma anche a farla arrabbiare povera marta ma se io ora che sono divenuto savio col timore continuo che mi scappi qualche stramberia non so più dire due parole una dopo l'altra basta mia moglie non si lasciò sfuggire l'occasione di ripetermi quel suo terribile ancora ancora che per me è peggio d'una doccia sorpresa poi mando via la ragazza senza neanche volerle dare qualcosina perché disse per quel giorno l'elemosina era fatta e realmente marta l'elemosina la fa ogni giorno badiamo da un soldino al primo povero che capita e quando ha dato quel soldino e ha detto raccomandami alle anime sante del purgatorio se messa in pace con la coscienza e non vuol sentire altro intanto io penso e dico quella ragazza se non è già perduta certo sarà tra breve sì ma che deve importarmene io ora sono divenuto savio e a queste cose non devo più pensare né punto né poco pensare a me questa è la mia nuova divisa ce n'è voluto per persuadermi a intestare tutti gli atti di questa mia nuova vita chiamandola così ma come dio vuole non facendo nulla basta se io ora per modo d'esempio mi fermo sotto la finestra ad una casa dove sappia c'è gente che piange devo subito vedere a quella finestra la mia smarrita spaurita immagine la quale affacciandosi all'obbligo espresso di gridarmi di lassù crollando un po il capo e appuntandosi l'indice di una mano sul petto e io così sempre e io in ogni occasione che è qui la base della vera saggezza quando ero matto invece quando ero matto non mi sentivo in me stesso che è come dire non stavo di casa in me ero infatti divenuto un albergo aperto a tutti e se mi picchiavano un po sulla fronte sentivo che vi stava sempre gente alloggiata poveretti che avevano bisogno del mio aiuto e tanti e tanti altri inquilini avevo parimente nel cuore ne si può dire che gambe e mani avessi tanto al servizio mio quanto a quello degli infelici che stavano in me e mi mandavano di qua e di là in continua briga per loro non potevo dire io nella mia coscienza che subito un eco non mi ripetesse io 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 da parte di tanti altri come se avessi dentro un passeraio e questo significava che se poniamo avevo fame e lo dicevo dentro di me tanti e tanti mi ripetevano dentro per conto loro ho fame ho fame ho fame a cui bisognava provvedere e sempre mi restava il rammarico di non potere per tutti mi concepivo insomma in società di mutuo soccorso con l'universo ma siccome io allora non avevo bisogno di nessuno quel mutuo aveva soltanto valore per gli altri il bello intanto era questo che credevo di ragionare la mia pazzia anzi se devo dire tutta la verità senza vergognarmi ero fila anche arrivato a tracciare lo schema di un trattato sui generis che intendevo scrivere col titolo fondamento della morale ho qui nel cassetto gli appunti di questo trattato e ogni tanto di sera mentre marta si fa di là il solito pisolino dopo cena li cavo fuori e me li rilego pian piano di nascosto con un certo godimento e anche una certa meraviglia lo confesso perché è innegabile che io ragionavo pure bene quando ero matto dovrei veramente riderne ma forse non ci riesco per il motivo affatto particolare che quei ragionamenti erano per la maggior parte diretti a convertire quella disgraziata che fu la mia prima moglie della quale parlerò appresso per dare la più lampante prova delle segnalate pazzie di quei tempi da questi appunti argomento che il trattato del fondamento della morale dovesse nel mio concetto consistere di dialoghi tra me e quella mia prima moglie o forse ed apologhi un quadernetto ad esempio intitolato il giovane timido e certo in esso alludevo a quel buon ragazzo figlio di un mercante di campagna in relazione d'affari con me il quale mandato dal padre veniva a trovarmi in città e quella disgraziata lo invitava a desinare con noi per divertirsi un po alle spalle di lui trascrivo dal quadernetto dimmi o mirina o che occhi sono i tuoi non vedi che cotesto povero giovane si è accorto che tu intendi prenderti gioco di lui lo stimi sciocco e invece soltanto timido così timido che non sa ritrarsi alla berlina a cui lo metti quantunque ne soffra dentro se la sofferenza di questo giovane o mirina non rimanesse per te allo stato di segno apparente che ti fa ridere se tu non avessi soltanto coscienza del tuo tristo piacere ma anche nello stesso tempo del dolore di lui non ti par chiaro che cesseresti di farlo soffrire perché il piacere ti sarebbe turbato e distrutto dalla coscienza dell'altrui dolore tu agisci dunque mirina senza l'intero sentimento della tua azione della quale provi l'effetto soltanto in te medesima così e per un matto via non c'è male il male era che non comprendevo che altro è ragionare altro è vivere e la metà o quasi di quei disgraziati che si tengono chiusi negli ospizi non solo forse gente che voleva vivere secondo comunemente in astratto si ragiona quante prove quanti esempi potrei qui citare se ogni savio oggi non riconoscesse tante cose che si fanno nella vita o che si dicono e certi usi e certe abitudini essere proprio irragionevoli di modo che è matto chi li ragioni tale in fondo ero io tale nel mio trattato mi dimostravo non me ne starai accorto se marta non mi avesse prestato i suoi occhiali per curiosità intanto coloro che non si vogliono tenere paghi di dio perché lo dicono fondato in un sentimento che non ammette ragione potrebbero vedere in questo mio trattato come io però lo ragionassi se non che convengo adesso che questo sarebbe un dio difficile per la gente savia e anzi addirittura impraticabile perché chi volesse riconoscerlo dovrebbe agire verso gli uni come agivo io una volta cioè da matto con uguale coscienza di sé e degli altri perché sono coscienze come la nostra chi facesse veramente così e alle altre coscienze attribuisse l'identica realtà che alla propria avrebbe per necessità l'idea di una realtà comune a tutti di una verità e anche di un'esistenza che ci sorpassa dio ma non per la gente savia ripeto è curioso intanto che marta mentre io seguendo la nostra vecchia abitudine di leggere qualche buon libro prima di andare a letto leggo per esempio i fioretti di san francesco mi interrompa di tratto in tratto esclamando con riverenza e piena d'ammirazione che santo che santo così sarà tentazione del demonio ma io abbasso il libro sulle ginocchia e sto a guardarle se lo dica proprio sul serio davanti a me per essere logici via san francesco per lei non dovrebbe essere savio o io ora ma già mi persuado che i savi debbono essere logici fino a un certo punto torniamo a quando ero matto sul cadere della sera in villa mentre da lontano mi giungeva il suono delle cornamuse che aprivano la marcia alle frotte dei falciatori di ritorno al villaggio con le carrette cariche del raccolto mi pareva che l'aria tra me e le cose intorno divenisse a mano a mano più intima e che io vedessi oltre la vista naturale l'anima intenta e affascinata da quella sacra intimità con le cose discendeva a limitare dei sensi e percepiva ogni più lieve moto ogni più lieve rumore e un gran silenzio attonito era dentro di me se che un frullo d'ali vicino mi pareva un sussultare e un trillo lontano mi dava quasi un singulto di gioia perché mi sentivo felice per gli uccelletti che in quella stagione non pativano il freddo e trovavano per la campagna da cibarsi in abbondanza felice come se il mio alito li scaldasse io li cibassi di me penetravo anche nella vita delle piante e man mano dal sassolino dal filo d'erba assorgevo accogliendo e sentendo in me la vita ad ogni cosa finché mi pariva di divenire quasi il mondo che gli alberi fossero mie membra la terra fosse mio corpo e i fiumi le mie vene e l'aria la mia anima e andavo un tratto così estatico e compenetrato in questa divina visione svanita restavo anelante come se davvero nel gracile petto avesse accolto la vita del mondo mi mettevo a sedere a piedi un albero e allora il genio della mia follia cominciava a suggerirmi le più strambe idee che l'umanità avesse bisogno di me della mia parola esortatrice voce d'esempio parola di fatto a un certo punto mi accorgevo io stesso che deliravo e allora mi dicevo rientriamo rientriamo nella nostra coscienza ma ci rientravo per non vedere me ma per vedere gli altri in me come essi si vedevano per sentirli in me come essi in loro si sentivano e volerli come essi si volevano ora concependo riflettendo così nello specchio interiore della coscienza gli altri esseri come una realtà uguale alla mia e per tal mezzo anche l'essere nella sua unità un'azione egoistica un'azione cioè nella quale la parte si erige al posto del tutto e lo subordina non era naturale che mi apparesse irragionevole ah sì ma mentre io per le mie terre camminavo in punta di piedi e curvo per vedere di non calpestare qualche fiorellino o qualche insetto dei quali vivevo in me la tenue vita di un giorno gli altri mi rubavano la campagna mi rubavano le case mi spogliavano addirittura e ora eccomi qua ecce homo